Una delibera di giunta comunale ha aperto il confronto tra le amministrazioni costiere per convenire su un comune progetto di sviluppo infrastrutturale di area vasta. In una logica di partenariato pubblico-privato, come era stato chiesto dai distretti turistici Sele Picentini, Riviera Salernitana e Consorzio Lidi di Pestum. Peraltro Eboli si è dotata ancora una volta con una delibera di giunta del piano di fattibilità che riguarda riqualificazione messa in sicurezza dell'area litoranea ed è pronto in un ufficio di piano. Al nuovo programma di sviluppo e tutela delle aree costiere si arriva dopo un'intesa intercomunale, sottoscritta ad ottobre del 2016 quando i sindaci dei comuni di Salerno, Ponte Cagnano-Faiano, Battipaia, Eboli, Capaccio Pestum e Agropoli concordarono un protocollo comune. A marzo scorso, infine, i comuni hanno presentato il documento strategico, delineandone i contenuti e le linee guida. Il masterplan, dice il sindaco Cariello, rappresenta un indirizzo strategico per il sistema turistico del corridoio costiero Salerno-Agropoli. Indispensabile per un vero programma di sviluppo delle aree costiere. Per questo mi sono fatto promotore di un ufficio di piano intercomunale che pianifichi gli interventi condivisi.